Ti servono crediti a FIFA Points a prezzi incredibili? Passa da MMROG e con il codice Fuse avrai il 6% di sconto Bella ragazzi, carichi come non mai da Fuse Gamer, oggi ragazzi siamo un'altra volta su Mega Game Ragazzi oggi siamo sempre carichi come non mai perché oggi ci andremo a scommettere l'ipotetica cifra di 15€ Allora oggi andremo a sfidare Dagi-Basso16 che ha ben 217 partite e 2 palloni e mezzo Allora come vedete io lo sfido 15€ per vincere 27€ e ragazzi sceglieremo un'altra volta il Real Madrid Adesso aspettiamo che Dagi diciamo accetti la sfida, già ci siamo messi d'accordo sulla Playstation Perciò non l'ho contattato proprio, quindi ragazzi aspettiamo Ragazzi ecco qui l'utente Dagi16 ha accettato la sfida, come vedete eccola qui Real Madrid contro Real Madrid 15€ per 27€, ragazzi ci ribecchiamo nella Playstation Ecco ragazzi siamo nella sessione Amichevelo Online Allora vi ricordo che le impostazioni devono essere così con durata, tempo 6 minuti, comandi qualsiasi, velocità, gioco, normale e tipo di rosa online Andiamo ad invitare Dagi? Eccoci qui ragazzi, ci siamo, ci siamo quasi, ci siamo quasi Ecco qui la mia formazione ragazzi Dai 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 dai, è pronto, è pronto, è tutto pronto, è tutto pronto Attenzione ragazzi, comincia Real Madrid, Real Madrid La sfida più equilibrata del mondo tra me e Dagi Attenzione subito a Dagi, mio Dio Dagi, se ne va con le skill Benzema Benzema ancora, Benzema al destro, mamma mia Come si presenta, come si presenta Attenzione Benzema, il pano è il retro per Baila Baila, Baila 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 1-0 da Madrid 1-0 da Madrid Mamma mia che parole di Karimba Cosa ha combinato Karimba Grandissimo, Gareth Gareth, Gareth, grande Baila Mamma mia Ronaldo Cross Ronaldo Ronaldo se ne va Ronaldo Ronaldo ancora Ronaldo Ronaldo cosa fa Ronaldo, Ronaldo Adesso Palo Palo per cross Cross Ronaldo Croo Cross Ce l'ho meritato 2-0 da Madrid Per noi ovviamente 2-0 da Madrid Mamma mia se faceva qualcosa con Ronaldo Ma cross Comunque la mette dentro Comunque la mette dentro Comunque la mette dentro 2-0 da Madrid Vamos, vamos, putnamadri Vamos Attenzione subito E ti regol E ti regol Ma no, no No Mamma mia Chico Casiglia Vai così Vai così Vai Pense ma Ha messo Per un'alto Un'alto No Casiglia Cosa ha preso Cosa ha preso Un'alto cosa si divora Per il 3-1 Modric No Cross Cross per Bay Bay per Che è Dan No Ramos Che è Danilo Tra l'e mezzo Cross In tarta Errata Tony Cross La boffietta Personale Per lui Tony Cross Tony Cross Avanti così Una favera Diciamo Di Casiglia Ma cross Non perdona 3-1 3-1 Bay 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 Mamma mia Cosa Mamma mia Cosa Cosa Bay per Ames Ames per Ronaldo 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 Oh Mannaggia Bay Bay Ames Ames per Modric 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 4-1 Dominiamo Ragazzi Dominiamo 4-1 Fuse Gamer Bola Fuse Gamer Bola Stanno segnando Solo i centromampisti Ames Cross E Modric 4-1 E parziale Ragazzi Ronaldo Per Benzema Attenzione Siamo scopertissimi Benzema 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 Per Davi Mannaggia Che miseria Mannaggia Siamo troppo scoperti Però Oh E fallo E dai Arbitro Come on Benzema Con un rimpallo Benzema Benzema Per Ames No A terra Rigore Però Ma no Ma no Venduto Arbitro Ronaldo No 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 Chico Ci salvo Mamma mia Ti portiamo al Vaticano Stasera Chico Casiglia Modric Per Ronaldo 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 Destra A giro Giro Palo Ma no È proprio sfortunato Gironato Ma è finita Ragazzi Vinciamo 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 4-2 4-2 Grandissima partita di Davi Però Diciamo che il primo tempo Noi l'abbiamo dominato Vediamo se vuole fare la rivincita Ragazzi Che casomai Vi faccio un secondo episodio Anzi Un terzo episodio Perché già abbiamo fatto Il primo contro Rudy Vediamo ragazzi Vediamo sul sito Se Vuole continuare Allora ragazzi Noi mettiamo il risultato Questa è che Davi Vuole fare la rivincita La facciamo Vediamo un po' Mettiamo il risultato Ragazzi addirittura Davi mi ha detto Rivincita da 50 Ma ragazzi 50 Cioè vi consiglio pure a voi Di non giocare Queste cifre così alte Perché veramente Sono cose da pazzi Lo faccio io Per intrattenervi Cioè lo faccio per Youtube Alla fine Non è che Mi metto a A giocare tutti questi soldi Comunque ragazzi Cliccate su di me Se volete vedere Come iscrivervi A questo sito E avere anche uno sconto Anzi Un bonus Di 10 euro Per giocare appunto partite O tornei O campionati O vi lascerò il link In descrizione del sito E anche il video Per vedere come iscriversi Ragazzi Allora Dobbiamo arrivare Almeno a 350 Mi piaccio Se volete Il continuo Anzi la rivincita Contro Dagui Quindi lasciate Bei pollicioni in su Comprate i crediti Da MMROG Vi lascerò il link In descrizione E usate il codice Fuse Per il 6% Di sconto Quindi lasciate un bel mi piace Un bel commento Iscrivete al canale Non ci ricordo che Vanno al prossimo video Bella ragazzi E' successa una cosa Davvero molto interessante Ecco qui ragazzi Avete detto che Lo scambio Edinson Cavani Con Gonzalo Guain E' successa una cosa E' successa una cosa